La provincia investe sui muspe esistenti e per sopperire alla mancanza di scuole mette sul piatto 2 milioni e mezzo di euro per il consolidamento ed efficientamento energetico delle strutture già esistenti, vale a dire il muspe del convicto e quello dell'exitas a Colle e Sapone. La provincia ha infatti appena approvato i progetti di fattibilità tecniche economiche. La prossima estate, se tutto andrà nei piani, ci potranno essere le gare d'appalto. L'obiettivo è rendere stabili e confortevoli queste strutture, che comunque sono costate del denaro, ma non per rimpiazzare le scuole, saranno dei moduli complementari. Il convicto infatti si stima potrà rientrare nella sede in centro tra 4-5 anni, mentre l'exitas su Viale Duca degli Abruzzi, una volta ricostruita, andrà a favore dei geometri. Smantellare due muspe, secondo i calcoli della provincia, sarebbe costato molto di più. Diciamo che è una scelta concreta e pratica. Non tutti i muspe sono da buttare alla provincia, in questo caso possiede ancora due strutture molto valide che possono essere adeguate e rifunzionalizzate. Chiaramente sono spazi aggiuntivi alle scuole non sostitutivi, strutture in più che le stesse dirigenti scolastiche ci hanno richiesto ormai perché l'affluenza è molta in questi istituti e queste strutture quindi possono essere appunto ausiliare e comode per queste scuole. Anche perché insomma per ritornare nelle strutture d'origine ci vorrà del tempo ancora? Ma intanto il Cotugno è rientrato in una scuola adeguata, sismicamente piena. Due appalti sono in corso sui Psiasar ed Exitas. Il polo di Collesapone avrà adeguamente in futuro quindi comunque una partita aperta con procedimenti in corso e ripeto i muspe possono essere molto comodi e lo sono stati anche in passato.